Ultima partita quest'oggi nel pomeriggio del Palasenna Si stanno per affrontare al Montesilvano Futsal Cup Il Tolna-Rozzi Futsal contro la Lazio Lazio è la vostra sinistra Alla vostra destra il Tolna-Rozzi, categoria di unores femminile Ospite che ora prova a ripartire bene con Butchmuller Butchmuller salta anche un'altra avversaria Mette in mezzo il salvataggio sulla linea Malati Butchmuller salta l'ultima avversaria Il tiro di Butchmuller respitto da lui Dalma, Malati Pallone in mezzo e Barca non arriva su un'ottima opportunità Cipriani bel colpo di testa, il palo pieno da parte di Barca Sfera che rimane lì Scivola sul pallone, Grieco glielo porta via, è calcio di rigore È minimo anche il cartellino per l'autrice del fallo È cartellino giallo, il tocco evidente Bonanni contro Heizmann, Bonanni Una cannonata che batte il portiere avversario Vantaggio della Lazio sul calcio di rigore 1-0 Altra brutta palla persa è Grieco La porta sul sinistro, Grieco chiede lo scambio Annatoli che mette fuori da buona posizione Gioco 1-0 Beh gioco di gambe, il tiro da rete del pari di Greta Malati Ha saltato un'avversaria con un gioco di prestigio Con il piattone, ha battuto imparabilmente Il portiere avversario è 1-1 Il portiere avversario è ancora amici Resiste a tre cariche Poi Grieco caccia addosso Heizmann da buona posizione Malati Napoli Grieco carica il destro Deviazione quasi decisiva Calcio d'angolo Centrato da Barca Che andava per la doppietta personale Ma il tiro di amici 2-1 Lazio Costanza amici proprio allo scadere Amici circa Daddato Daddato mezzo e mezzo E la Lazio va sul 3-1 Bonanni va via Fa il pallonetto Un gol sensazionale Da parte di Bonanni Tripletta personale Barca Fa tutta una sola Barca Apre la difesa avversaria Il pallone Per Daddato che segna il 5-1 Della Lazio Grande Barca A partire A farsi metà campo E a mettere l'assist perfetto Per la numero 15 Barca Ha un altro passo La numero 6 Lo scambio Manovra Da Manuolo Della Lazio Maddadato Decide di non far gol Cipriani Ruba un ottimo pallone Perfetto per Grieco Cipriani 6-1 Della Lazio In totale dominio In questo secondo tempo Grieco sul secondo palo La doppia risposta Da parte di Heizmann Grieco Grieco Con sinistro Poi nuovamente Heizmann Colombo Natoli Accelera Natoli Natoli Mette fuori Amici Amici Pesca la base del palo Direttore di gara Dà un'occhiata Al cronometro E termina qui Il match Il tolna Rozi Fuzzal Regge quasi un tempo Contro la Lazio Che poi dilaga 6-1